Un caro saluto da Gianluca Rossi, amici del canale YouTube Qui Studio Voi Stadio. Come sempre la raccomandazione di continuare a descrivervi in questi ultimi scoppiettanti, almeno ce l'auguriamo, due mesi finali di stagione. Parliamo naturalmente di Champions, la possibilità di avere un'italiana in finale dipende ovviamente dall'Inter, nel senso che se l'Inter riuscirà a fare il suo dovere, eliminare il Benfica, al di là di chi passerà tra Milan e Napoli, noi saremo sicuri di avere un'italiana in finale. Peccato che dall'altra parte del tabellone ci sono i cosiddetti mamma santissima europei e quindi continuo a ritenere, diciamo City, Real, l'altra finale, o va Real o va Mil City, continuo a ritenere veramente un sogno irrealizzabile di vedere la Champions League arrivare in Italia. Parliamo di Milan-Napoli, confrontandola a Inter-Benfica. Allora, il ritorno, appunto, come sapete si gioca a Napoli, il Milan ci va con un gol di vantaggio, come era andato a Londra col Tottenham con un gol di vantaggio, se i rossoneri dovessero riuscire a fare una partita accorta come quella che giocarono a Londra, il Milan andrebbe in semifinale di Champions. Dove troverebbe? Beh, diciamo che se l'Inter fosse una squadra normale potremmo già dire che troverebbe l'Inter. Vorrei dire che per quella che è l'affidabilità che abbiamo visto, l'Inter e Milan, poca di entrambe, è nelle ultime partite, però comunque mi sembra più affidabile il Milan. Faccio questo discorso. Diciamo che all'Inter un gol di vantaggio con il Benfica non basterebbe per quello che sta facendo vedere. È chiaro che averne fatti due al Dalus di Lisbona, ripeto, una squadra normale, se l'Inter fosse una squadra normale potremmo già dire di aver ipotecato la semifinale e se dovesse passare appunto il Milan con una condotta attenta, accorta a Napoli, come quella che ha avuto Londra, ribadisco, saremmo così tutti eccitati, almeno io ho eccitato altri agitati, per il derby europeo di Champions. Che è una cosa, lo dico subito, che io personalmente, se vi interessa la mia opinione, ma uno qua anche non è saluto interessato, per carità di Dio, io anelo, io lo voglio, io spero, io non lo temo assolutamente, ma perché mi faccio forte ovviamente delle ultime due volte che ho incontrato il Milan, ossia a gennaio, quando il Milan era in crisi, sia a febbraio, diciamo il 5 febbraio il derby di campionato 1-0, ma potrebbe essere molto più largo, e poi a Riad, dove ero presente, live, ed è stata una delle trasferte più belle, insomma negli ultimi anni, vedere l'Inter sollevare la Supercoppa italiana, schiantando 3-0 il Milan. Voi mi direte, beh, però anche il precedente, l'unico precedente col Napoli, il 4 gennaio scorso, è positivo con 1-0, e quindi che ti cambierebbe? No, ritengo, ritengo onestamente che il Milan sia ancora più alla portata dell'Inter, quindi se devo esprimere una mia preferenza, mi piacerebbe moltissimo rivivere un derby di Champions, con tutti i rischi annessi e connessi, molti ne hanno paura, sia rossoneri che nerazzurri, perché poi temono ovviamente i nerazzurri, dal loro punto di vista, una riproposizione del precedente derby, ce ne sono stati due in Europa, ma diciamo che quello che è rimasto più impresso è quello del doppio pareggio, dello 0-0, 1-1, Cooper e Ancelotti, che vennero messi alla Berlina prima di quella partita, passò il Milan in virtù dei gol in trasferta ed era anche quella una semifinale. Quindi è quello il precedente a cui si pensa. Però io razionalmente dico, come si era già giocata una Supercoppa italiana nel 2011 in Cina e l'aveva vinta il Milan e nel 2023, quest'anno, abbiamo cancellato quella sconfitta rivincendola noi, perché non potrebbe capitare, in caso di Derni in semifinale, che l'Inter facesse dimenticare ai propri tifosi anche questa cosa capitata ormai più di vent'anni fa? Però il dato essenziale è l'inaffidabilità dell'Inter, ovviamente, perché adesso ci si fa forza, giustamente, pensando al 2-0 dell'andata, che è un risultato, ripeto, straordinario da firmare ad occhi chiusi, ma noi non possiamo ignorare le 11 sconfitte di campionato e l'inaffidabilità che questa squadra continua a dimostrare. Ai limiti, vorrei dire, della mancanza di rispetto, della mancanza di rispetto da parte della squadra nei confronti del proprio splendido pubblico che ogni volta regala un San Siro nell'Azzurro in sold out. E quindi questo dobbiamo tenerlo presente. È vero, il Benfica sicuramente verrà a San Siro e ci si augura che possa essere condizionato dal pubblico. La frase fatta è che il pubblico sia il dodicesimo uomo. Benfica che, tra l'altro, sentendo questa partita, non perdeva mai. Adesso improvvisamente ha perso tre partite. Ha perso col Porto, ha perso con l'Inter, ha perso addirittura col Chavez nell'ultima giornata di campionato, 1-0 al 95esimo in prima ira liga. Il Chavez è decimo. Addirittura in classifica, una cosa abbastanza, anche questa, inconcepibile. Però, francamente, conosciamo l'Inter e allora facciamoci forza sul fatto che nelle partite di cartello che contano, ed è una cosa piuttosto fastidiosa, la squadra sa essere se stessa, molto meno nelle partite non di cartello, nelle partite che però contano per arrivare al quarto posto. Per entrambe le milanesi il passaggio del turno in Champions League vale qualcosa come 30 milioni. 30 milioni di euro per quella che è la situazione finanziaria di entrambi i club, anche se si parla sempre più di quella dell'Inter e sempre meno di quella del Milan, ma in realtà le situazioni finanziarie sono sicuramente da tenere d'occhio per entrambe le società, questi 30 milioni sarebbero vitali. 30 milioni che sarebbero vitali, ovviamente insieme poi ai 60 per il raggiungimento della zona Champions in campionato, perché noi dobbiamo già calcolare che comunque se arrivi nelle prime quattro facendo la Champions l'anno prossimo hai già un bonus comunque per tutto il girone del prossimo anno di 60 milioni, ma non andiamo troppo in là. Stiamo ovviamente a queste partite, è un derby fratricida dove naturalmente il Napoli appare in calo, è vero, il Napoli appare in calo e soprattutto il Milan ha dimostrato già in più di un'occasione di sapersi chiudere, di saper essere squadra, di saper soffrire e magari di portare a casa alla fine il risultato imprevisto. Era stato così col Tottenham e ovviamente ci contano molto i rossoneri. Io torno a dire che è più facile per il Milan, secondo me, rimontare un 1-0 che non correre rischi per l'Inter a San Siro ma il grado è il 2-0 dell'andata. È chiaro che secondo me noi possiamo girarci molto intorno sul fatto che non vale più il gol in trasferta e per carità è fondamentale, però secondo me l'aspetto del pubblico dello stadio amico è ancora determinante. Per questo certamente il Milan avrà un avversario in più. Il Maradona, tutto esaurito con la ricomposizione anche delle fratture che io trovo assurde. Lo dico subito, dei tifosi certamente insomma quello stadio lì quello stadio lì a Napoli è un avversario in più. Come spero e io lo dico anche pensando all'Inter che sia un amico invece fraterno al di là del doppio vantaggio lo stadio di San Siro tutto a favore. Questa è la mia opinione sarà Inter-Napoli sarà Inter-Milan sarà Benfica-Napoli o Benfica-Milan insomma diciamo che siamo qua per scoprirlo per divertirci e un saluto da Gianluca Rossi amici del canale Qui Studio Qui Stadio continuate a iscrivervi e speriamo davvero insomma che ognuno di voi per qualche desidera sia contentato non è possibile per tutti però non so che altro dirvi ciao a tutti grazie a tutti